Questa partita è entrata in corso d'opera al posto di Roberto Inglese, prodezza, io ho detto insomma in telecronica di raro pregio, però tu ce l'hai nel DNA, insomma nelle tue corde. Ha stato un tiro di Bonanni, un rimpallo, la palla è arrivata lì che rimbalzava un po' strana, sono riuscito a prenderla bene e a piazzarla nel palo destro. Complimenti perché insomma hai tolto, come si dice, la ragnatela dal 7 alla sinistra di Breme, che a livello generale era importante questa partita, è fondamentale questa vittoria, ma soprattutto credo che sia stata fondamentale la prova dimostrata dalla squadra sul piano della personalità. Sì, magari non ci sono state occasioni limpidissime che ricordo, è stata una partita difficile dove comunque venire qua e portare a casa dei punti è sempre difficile. Magari nel secondo tempo si è un po' sbloccata, comunque tutte le due squadre volevano vincere e ci sono allungate le squadre, quindi poi è arrivato il mio gol. Ce l'ho provato un attimo prima su un tiro forte, però era un po' centrale, sì, però mi sono rifatto subito dopo. A questo punto ho vietato cali di tensione, diciamo anche a te, perché venivi da un gran gol contro il Giulianova e poi è successo quello che è successo a Terri. È stata una stupidaggine, è un grosso errore che assolutamente non va commesso, mi sono scusato con tutti e spero che questo gol valgono le mie scuse.